Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca ancora un assalto in villa nel territorio aretino. Stavolta i malviventi hanno preso di mira l'abitazione di Ferrer Vannetti, presidente di Confartigianato in Valtiberina. Per lui è il secondo assalto. Sentiamo. Ancora un assalto in villa nell'aretino. I malviventi hanno preso di mira l'abitazione di Ferrer Vannetti, attuale presidente di Arezzo Fiere, Confartigianato in Prese e Arezzo e Artigian Cassa. L'imprenditore si sarebbe accorto di quanto accaduto al rientro a casa nella tarda serata di martedì. I malviventi hanno sfondato un vetro e in pochi minuti, prima che suonasse l'allarme, sono riusciti a portare via la cassaforte. All'interno gioielli e denaro per un valore che si aggira intorno ai 100.000 euro. Oggi Vannetti preferisce non parlare così, ci aveva raccontato in questa intervista un altro furto subito nel luglio del 2019. Ho trovato tutte le camere completamente rovistate, quindi tutti gli armadi aperti, la roba in terra, tutti i cassetti aperti, il letto coperto di oggetti tirati fuori dai cassetti, Tutte le scatole dei gioielli, degli orologi, mi hanno portato via orologi, gioielli, collezioni di penne, collezioni di monete, tutta una serie di cose che fanno parte un po' della storia di ognuno. Sul caso indagano i carabinieri che hanno a disposizione anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. E a Poppi invece in Alto Casentino, in seguito ad un controllo di natura amministrativa, la Guardia di Finanza ha scoperto importanti reperti archeologici che sono stati sequestrati. Reperti archeologici di origine etrusca risalenti al periodo tra il VII e il VI secolo a.C., sequestrati dalla Guardia di Finanza di Poppi nell'Aretino. Si tratta di manufatti in ceramica e terracotta di pregiata fattura ed inestimabile valore, destinati al tempo degli etruschi all'utilizzo quotidiano per conservare alimenti e bevande. In tutto sette gli oggetti, due brocche di vino, una in bucchero e una in ceramica, un vaso su alto piede in ceramica d'impasto rosso, una coppa per il vino, un recipiente di terracotta destinato alla conservazione dei cibi e una tazza a tingitoio. Gli oggetti sono stati scoperti nel corso di un controllo di natura amministrativa in un esercizio commerciale che si trova nel comune di Poppi. Inizialmente sono stati rinvenuti cinque oggetti, poi all'interno dell'abitazione del titolare dell'azienda è stato ritrovato un antico vaso. L'ultimo reperto è stato invece sequestrato a casa di colui che aveva venduto gli oggetti al commerciante, un uomo residente nel comune di Calenzano, nel Fiorentino. Un nuovo codice giallo che interesserà in modo articolato tutta la Toscana nella giornata di giovedì 15 dicembre è stato emesso dalla sala operativa della protezione civile regionale. I fenomeni attesi sono piogge e forti temporali, rischio idrogeologico per tutta la provincia di Arezzo. Si è parlato di donne e Iran in un interessante appuntamento ospitato dalla Casa dell'Energia di Arezzo. Il servizio. Di sottofondo si sta dicendo in iraniano donna, vita e libertà e la fierezza con cui dicono questo slogan è una dichiarazione per i diritti e per i diritti umani che in Iran non vengono rispettati. Donne, vita e libertà. Le parole delle donne iraniane ad Arezzo per comprendere cosa sta avvenendo in un paese non così lontano da noi, dove proprio le donne sono il motore del cambiamento per la conquista, non poco sofferta, dei propri diritti. È molto importante ascoltare le testimonianze di queste donne perché riusciamo forse a uscire dall'indifferenza, dal silenzio, riusciamo a capire tante cose. Alla Casa dell'Energia di Arezzo, così un incontro per ascoltare le storie di queste donne. Siamo fuori dal nostro paese da diversi anni, però soffriamo sempre anche per quelli giovani che sono fuori, purtroppo, che muoiono, muoiono per la strada, per niente, per una protesta. La gente non ce la fa a uscire come vuole, sempre loro appena vedono qualcosa, non va, anche i capelli fuori, il vestito che non va bene come vogliono loro, e niente, prendono e portano, dopo alcuni di quelli che portano via o fanno, ammazzano in prigione, dopo non si sa che succede all'interno delle prigioni che portano loro. Purtroppo è così. L'Antitrust ha aperto un procedimento nei confronti di Enel Energia e di altri sei operatori contestando presunte modifiche unilaterali del prezzo di energia e gas. Enel rimanda le accuse al mittente e spiega con una nota la sua posizione annunciando di impugnare il provvedimento. La società, precisa appunto nella nota, non ha mai modificato alla propria clientela le condizioni economiche durante il periodo di validità dei contratti. Ha finora fatto fronte alla grave crisi provocata dall'aumento dei costi del gas, mantenendo invariati i prezzi per i propri clienti durante tutta la validità appunto del contratto. A tutela delle proprie ragioni annuncia di impugnare immediatamente il provvedimento dell'autorità. Parliamo di un'altra emergenza, quella che si sta concretizzando nel mondo delle pubbliche assistenze da parte del Comune di Arezzo. Arriva un aiuto importante. Sono stati infatti stanziati dei fondi. Una misura, una tantum, spiega il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti per misericordia Croce Rossa e Croce Bianca, ma appunto con la quale vogliamo dare un segnale anche economico a favore del sistema del volontariato, che è una colonna del nostro sistema dell'emergenza urgenza. Dobbloccare il trasporto sociale significa lasciare soli, dializzati, malati oncologici, disabili e siamo molto sorpresi che la regione non dia segnali. Parliamo adesso invece del cosiddetto super bonus, il 110, come molti di voi lo conoscono. C'è un allarme da parte di CNA in seguito ad una indagine. Quasi 50.000 imprese della filiera costruzioni non riuscirebbero a cedere i crediti. Sono quasi 50.000 le imprese della filiera delle costruzioni che accusano molte difficoltà nell'accessione dei crediti legati al bonus per la riqualificazione degli immobili e un notevole peggioramento delle condizioni finanziarie proposte dai potenziali acquirenti. È una fotografia preoccupante quella che emerge dall'indagine effettuata da CNA presso un campione rappresentativo del settore, commenta Francesco Rilo, presidente CNA Costruzioni Arezzo. L'indagine continua rileva che ammontano ad oltre 5 milioni di euro i crediti nei cassetti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e non monetizzati attraverso una cessione, un volume raddoppiato rispetto alla scorsa primavera. Significativa la percentuale di imprese con cassetto fiscale pieno da almeno 5 mesi, il 35% a maggio, mentre oggi sfiora il 75%. Inoltre è aumentata la platea delle imprese che detiene crediti superiori a 100.000 euro. Per le aziende, sottolinea poi, è sempre più difficile individuare soggetti disposti ad acquisire i crediti legati ai bonus. La paralisi della cessione dei crediti fiscali provoca pesanti impatti, retardo nel pagamento dei fornitori, difficoltà nel pagare le tasse e le imposte alla scadenza. Sei imprese su dieci considerano la sospensione dei cantieri in essere l'86% afferma che non aprirà nuovi cantieri. Come associazione conclude, rinnoviamo l'invito al governo ad assumere un intervento straordinario per consentire a decine di migliaia di imprese di svuotare i cassetti fiscali. E adesso parliamo di una vicenda della quale ci siamo occupati più volte, ovvero del problema dei cattivi odori in alcune zone della territoria retina o più che altro alle porte della città, quindi Ponte Acchiani e Battifolle. Nei giorni scorsi si è svolto un primo incontro tra l'assessore all'ambiente Marco Sacchetti e i referenti del comitato appunto contro gli odori. L'amministrazione comunale, dice Sacchetti in una nota, ha sempre seguito con attenzione l'evoluzione delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini e fin da subito ha chiesto sia ad AISA e Impianti che ad ARPAT e ASRA di definire un programma di monitoraggio e degli eventuali interventi che si riterranno più opportuni per attivare appunto le varie azioni che dovranno servire a mitigare questa problematica. Con il prossimo servizio invece parliamo del Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno. Sentiamo quale importante iniziativa si è svolta proprio nei giorni scorsi. Oggi abbiamo sottoscritto questo protocollo di intesa con le organizzazioni agricole e della cooperazione che ci permette di poter continuare ad effettuare i nostri lavori affidandoli alle imprese agricole, i lavori di manutenzione ordinaria che il Consorzio svolge nel suo programma annuale dell'attività operativa. Il protocollo si è reso necessario aggiornarlo in virtù di due fattori. Uno relativo all'aumento dei prezzi che ci sono stati con la guerra, l'aumento delle materie prime e dei mezzi di produzione. Dall'altro per aggiornarlo dal punto di vista giuridico rispetto all'evoluzione che c'è stata negli ultimi sei anni che era la data in cui abbiamo operato con il vecchio accordo con le organizzazioni. Sono cifre importanti, si parla di circa 7 milioni di euro, 7, 8, 6 ogni anno che il Consorzio di Bonifica affida alle imprese agricole locali per la manutenzione del reticolo di gestione. Si parla principalmente di sfalcio della vegetazione, rimozione delle arberature, sistemazioni delle opere che rientrano nel carattere dell'ordinarietà. Insomma una serie di lavori piccoli, non vistosi, ma che sono essenziali per mantenere in efficienza i nostri corsi d'acqua. È un'opportunità importante direi per tantissimi soggetti che hanno a che fare in senso generale con le bonifiche del territorio. In primis ovviamente le aziende agricole che da questa opportunità hanno la possibilità di integrare il proprio reddito, la propria attività con attività connesse così come previste dalla legge di orientamento. Ma credo che abbia una grande opportunità anche il Consorzio stesso perché un'operazione di questo genere consente anche delle economie, quindi i costi sono ovviamente inferiori a quelli che potrebbero nascere da appalti di tipo diverso. E è anche un'opportunità per i cittadini e quindi per tutti i consorziati perché chi lavora nell'interesse diretto del territorio, perché magari confina con i propri terreni, con i propri campi, con i propri appezzamenti, nei fiumi, nei corsi d'acqua che manutenziona, probabilmente dà anche garanzia di efficacia e di efficienza. Una notizia che arriva dal mondo dell'economia. Le esportazioni in provincia di Arezzo sulla base dei dati provvisori pubblicati dall'Istat si sono attestate nei primi mesi del 2022 circa 7,9 miliardi di euro con una flessione positiva dello 0,5%. Un risultato però largamente sotto l'andamento della media regionale che segna un più 10,8%. I metalli preziosi sono quelli che rappresentano più del 41% dell'export complessivo con la voce più importante rappresentata proprio dall'export a retino. Nel terzo trimestre però è proseguita la tendenza negativa, afferma il segretario generale della Camera di Commercio Marco Randellini, che si era già osservata nei primi mesi proprio di questo 2022. Adesso invece siamo alla pagina della cultura, un accordo storico, così è stato definito tra la Fondazione Arezzo in Tour e la Direzione regionale Musei della Toscana che permetterà soprattutto ai musei statali a retini di rimanere aperti in più orari e soprattutto più giorni durante l'anno. È un nuovo modello per la gestione del sistema museale cittadino, quello che è stato concretizzato ad Arezzo grazie ad un accordo tra la Direzione regionale Musei della Toscana e la Fondazione Arezzo in Tour. L'accordo coinvolge i musei statali della città, la Basilica di San Francesco, il Museo di Casa Vasari, il Museo Nazionale d'Arte Medioevale e Moderna, il Museo archeologico nazionale Gaio, Cilnio, Mecenate e l'Anfiteatro Romano. Si tratta di una convenzione che entrerà in vigore da gennaio 2023 e che darà vita ad un piano di comunicazione e promozione del sistema museale. In passato i musei statali a retini, per via della carenza di personale, sono rimasti chiusi al pubblico in svariate occasioni. È un momento importante costruito attraverso un percorso molto attento di accordi con la Fondazione Arezzo in Tour, che essendo una fondazione di fatto comunale e pubblica. Questo ci ha consentito di fare un accordo di valorizzazione per la gestione dei servizi nei musei a retini, che sono quelli statali, che tutti conoscete, Basilica di San Francesco, Casa Vasari, Museo Nazionale d'Arte Medioevale e Moderna e il Museo archeologico Mecenate. In questa maniera abbiamo un rapporto diretto con un ente pubblico e che gestirà in rete con gli altri siti che già gestisce, comunque sono quelli della città e credo anche oltre della città, i servizi di biglietteria, di bookshop, di accoglienza e pian piano si costruirà un sistema a migliorare ovviamente le condizioni attuali e anche già noi abbiamo avuto la possibilità di aprire nuovamente e in maniera migliore grazie all'assunzione di persone all'interno. Con questo rapporto con la Fondazione sicuramente ci saranno altri sistemi, altri miglioramenti per quanto riguarda, io penso, gli orari, ma anche le fasce di apertura e servizio al pubblico, fondamentalmente servizio al pubblico. L'obiettivo è quello di portare sempre più persone a godere di questo patrimonio in maniera uniforme e in maniera sinergica. Ovviamente il percorso è stato lungo perché due amministrazioni che si devono passare un incarico di questo tipo ovviamente devono concordare fino nei minimi dettagli quello che avviene. C'è anche da dire che in questo accordo che è intervenuto e che è stato firmato in questi giorni tra Fondazione Arezzo in Tour e direzione dei musei della Toscana tiene conto anche del reimpiego del personale che era prima impiegato dal gestore, quindi non si perde forza lavoro e si rispettano i diritti dei lavoratori. Poi su quello che nel futuro si potrà fare è un progetto aperto, ovviamente tante sono le linee lungo le quali vogliamo lavorare per aumentare l'offerta, quindi aumentare il numero di ore disponibili per l'apertura dei musei, aumentare la possibilità di avere dentro i musei quei punti di ristoro che qualificano spesso le realtà museali al giro per l'Europa e per il mondo. Quindi è un progetto aperto, inizia secondo me nel migliore dei modi perché il primo di gennaio è una domenica, è la prima domenica del mese e quindi come per direttiva ministeriale i musei sono gratuiti. Si è conclusa la campagna Un sorriso in dono promossa dalla Croce Rossa italiana, Comitato di Arezzo e da Bobini Giocattoli il prossimo lunedì 19 dicembre. La Croce Rossa distribuirà i doni raccolti alle 160 famiglie seguite dall'associazione, un'iniziativa che anche la nostra redazione aveva supportato davvero con piacere ad aiutare questo lavoro. Ci saranno anche i ragazzi di futuro Aretino che hanno scelto di partecipare proprio a questa giornata di consegne. L'evento si terrà presso la ludoteca Peter Pan dove sarà presente ovviamente anche Babbo Natale. Ed è proprio un Babbo Natale speciale quello che ha donato questa mattina 40 quintali di cibo per i gatti delle colonie feline presenti nel comune di Arezzo. Un regalo sotto l'albero per le colonie feline che sono presenti nel comune di Arezzo. Questa mattina al Canile Municipale è arrivato tanto cibo. Dunque le colonie feline nel comune di Arezzo sono circa 180 quindi sono state tutte censite e questa è la quinta distribuzione che facciamo gli alimenti per aiutare appunto i custodi delle colonie che ringraziamo per il loro lavoro, per il loro impegno e per l'amore che hanno verso gli animali. Oggi ci sono 40 quintali di cibo in distribuzione e per me è una grande soddisfazione dare questo aiuto agli animali e soprattutto ai custodi che, ripeto, stanno facendo un ottimo lavoro. Gestisco in via dell'Acropoli 40 gatti. Questo aiuto di stamattina è importante? Per me molto perché mi costano parecchio gatti. Cioè, capito, anche dargli da mangiare, insomma, sì, costano. Però io ho passione e li voglio molto bene quindi non mi sento di abbandonarli, ecco. Veramente è una grandissima iniziativa questa per cui ringraziamo l'assessore che l'ha voluta e che ci tiene e che soprattutto riesce a mantenerla. Quello che io sto dicendo a tutte queste referenti di colonia è che per ora prendiamolo perché è veramente un bel aiuto importante. Le colonie sono in aumento e ci sarebbe necessità di più sterilizzazioni. Questo sì. Ci sarebbe, cioè, la ASL sta sterilizzando e molto bene. Devo dire che fanno interventi di livello. La stanza adegenza funziona però un numero maggiore di sterilizzazioni aiuterebbe di più. Un altro evento davvero bello e importante è quello che si è svolto questa mattina presso l'entrata principale dell'ospedale San Donato di Arezzo alla presenza degli operatori sanitari del presidio ospedaliero canti natalizi da parte dei bambini della classe quinta della scuola primaria Santetani sotto l'albero di Natale allestito dai volontari del Calcit. Quindi davvero un augurio tanto, tanto particolare quello fatto dai nostri studenti. Ed infine parliamo di sport. Una sconfitta difficile da digerire quella maturata domenica scorsa al comunale contro il Tau Alto Pascio per i colori amaranto è davvero tempo di riflessione ma già sabato e mercoledì prossimi si dovranno comunque disputare le ultime due partite di questo 2022 prima dello stop e poi la ripresa a gennaio. Ovviamente altri passi falsi potrebbero davvero essere fatali. La squadra intanto è tornata ad allenarsi questo pomeriggio con una seduta singola prima della doppia invece di domani. Sabato 17 dicembre l'Arezzo affronterà allo stadio Corrado Bernicchi lo Sporting Trestina alle 14.30. La prevendita dei biglietti è già aperta. Saranno a disposizione dei tiposi amaranto 250 tagliandi per il settore ospiti e 350 per la tribuna non coperta. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio ai nostri programmi. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.